Scacco matto per Fedez. Come ben saprete Fedez e Chiara Ferragni da sempre si erano battuti per far approvare la DDL ZAN, che poi non fu approvata come tante altre cose utili in Italia. In quel momento Fedez fece un intervento molto discusso al concerto del primo maggio dopo il quale fu querelato per difamazione. Oltre a questo l'associazione del Kodakons fece riemergere un video dove Fedez cantava una canzone omofoba. Fedez fece anche un video per chiarire che tutto ciò che diceva in quel video era in contrario del suo pensiero. Ma ovviamente nessuno gli ha creduto. Oggi Fedez ha deciso di ribaltare la situazione baciando Chemical. In quanto per far decadere tutte le insinuazioni omofone nei suoi confronti quale altro mezzo usare per togliersi dai panni queste accuse se non baciare un altro uomo. Farlo sul palco dell'Ariston facendo scacco matto. Ovviamente questo silenzino è studiato. Chiara Ferragni sapeva tutto. I due imprenditori sono ormai geni del marketing sanno far bene le loro mosse ed anche se a noi non torna qualche mossa porterà sicuramente benefici alla loro immagine a lungo andare. Canale YouTube Fabio Pecce